Questa opera racconta quello che è, secondo me, la chiave di lettura della mobilità all'interno di una città come Brescia che si affaccia per la prima volta su una linea metropolitana, che è un raccordo importantissimo perché cambia la faccia della città, cambia la tipologia degli spostamenti, non ha un impatto ambientale, è silenziosa, è facile da usare, è aperta a tutti. Quindi, diciamo che la mia opera è un po' un simbolo di come percepisco io la metropolitana di Brescia, quindi come percepisco la mobilità e le interconnessioni all'interno della città. Secondo me la bellezza e l'estetica, soprattutto nei luoghi pubblici, sono una cosa fondamentale perché, e questa è una cosa che ho toccato con mano, lavorando su piazze, su pareti, eccetera, eccetera, introdurre bellezza e arte negli spazi condivisi contribuisce a cambiare la percezione che le persone hanno di quegli spazi. Quest'opera è stata elaborata digitalmente, dopodiché abbiamo riportato io e il mio assistente sulla griglia naturale composta da questi mattoni di cemento e abbiamo lavorato tutto con vernici a quarzo e smalti ad acqua in modo da ottenere un risultato duraturo, ma allo stesso tempo che abbiamo un feeling pittorico. Per quel che riguarda il treno, invece, ho lavorato in maniera esclusivamente digitale perché poi è stata fatta ovviamente una stampa sulle carte desideri speciali ed è stato messo in posa successivamente dagli operai addetti.